A 12 anni dal terremoto dell'Aquila e quando ci si avvicina al 6 aprile, oltre al ricordi alla memoria diventa quasi inevitabile tracciare un bilancio della ricostruzione. Molto è stato fatto, molto ancora c'è da fare, soprattutto per la ricostruzione pubblica, che si attesta ad una percentuale del 40%. Ci sono ancora delle macchie, dei buchi neri in città, lavori mai partiti o solo all'inizio, che fanno indignare i cittadini. Molti non rientrano nelle case ormai pronte, da quel che si sa, proprio a causa di alcune situazioni limite. Per il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Pierluigi De Amicis ci sono ancora tante problematiche. Le opere non si vedono a volte, ma le carte aumentano e per lui, soprattutto, bisogna dotare gli uffici tecnici di personale. Siamo ancora lontani da una vera e propria ricostruzione pubblica. I perché sono diversi, perché abbiamo alcune volte le procedure, forse non sono fatte in maniera corretta, con bandi che contengono anche degli errori che vengono impugnati sin dalla loro origine. Quindi già i bandi per l'affidamento in carichi di progettazione. Vi sono diverse difficoltà che hanno bloccato, congelato, procedure che rimangono ferme per ricorsi, varie problematiche, soprattutto amministrative. Il codice dei contratti non è quello che voleva essere qualcosa che accelerasse la ricostruzione, non solo la ricostruzione, ma tutte le opere pubbliche. Il codice dei contratti lo vorremmo rivedere completamente, tornare a un codice che sia snello, con un regolamento di attuazione che sia chiaro. E dovremmo anche cercare di potenziare quelli che sono gli uffici tecnici dei comuni, ma con nuove risorse, cercando di implementare proprio la forza lavorativa. Su questo sono a chiedere sicuramente alla Regione un impegno decisivo in tal senso. Gli esempi più ecratanti sono diversi. La cattedrale di San Massimo in Piazza Duomo ancora non partono i lavori. Il progetto si sta verificando ora per poter finalmente partire. Altro esempio è il quarto cantone, con l'ex convitto e biblioteca provinciale, dove ci sono diversi proprietari. La stazione appaltante è il provveditorato alle opere pubbliche. Lavori mai partiti anche qui, ma in fase di aggiudicazione ora. Altro esempio può essere la chiesa di Santa Maria Pagani, che a molti del quartiere in questi anni hanno gridato allo scandalo, perché in questo caso davvero non se ne sa nulla. Altre chiese sono nel Mirino, Santa Giusta, San Marciano, Santa Maria di Roio, con interventi minimi e altri palazzi in centro, come quello dell'ex Camera di Commercio, l'ex IPAB a Piazza Palazzo, Santa Maria dei Raccomandati al Corso Stretto o Palazzo Margherita, il Palazzo Municipale, ha dei ritardi, ma almeno qui ora si sta lavorando con velocità. Un capitolo a parte lo meriterebbero le scuole, anche se qualcosa nelle procedure è cambiato. Stando ai numeri, solo due scuole pubbliche sono state ricostruite dopo 12 anni.